Salve a tutti ragazzi e bentornati a MacShowsha, finalmente torna The Witcher 3 Ma questa sarà una intro un po' particolare, infatti vi parla il Mac del futuro Vi ruppo un po' di tempo, magari ragazzi leggete ma ascoltatemi perché è importante quello che vi devo dire Poi vi lascio al Mac del passato con la solita puntata Allora ragazzi, sapete che avrei voluto continuare sia The Witcher che Batman Insieme, purtroppo stavo aspettando la linea nuova È successo che me l'hanno montata ma non me l'hanno ancora attivata E così è veramente difficile portarvi nuovi episodi di The Witcher Soprattutto episodi XXL come questo e i prossimi che verranno perché ho già finito la serie E niente ragazzi, ve lo volevo far sapere perché è una situazione che mi pesa un po' Perché vi avevo detto, guardate dal lunedì iniziamo e invece è passata una settimana Veramente, boh Oggi è giovedì 2 luglio, spero nel più breve tempo possibile di farvi avere novità In modo tale da riuscire a finire The Witcher ha una qualità decente soprattutto Detto questo ragazzi, io vi lascio alla puntata, spero che abbiate letto ma comunque ve lo dico io Stiamo rintracciando una nuova maga della loggia Detto questo ragazzi, io vi lascio al Mike del passato che sicuramente sarà stato più divertente di me Detto questo, ciao ragazzi, ciao Le grandi risate qui eh Stiamo solo andando ad affrontare la morte alla fine Ma che si ride? Ma mi ha fatto gli gnocchi Vedi le chiappe serie Minchia, c'aveva l'alito particolarmente pesante, avete visto? È uscito un gabbiano dalla foca E poi era ancora Sì, questo sottolinea la questione dell'imperialità di cui si riuscirà a conquistare Skellige Ma lo conosce, questi sono i miei amici L'imperio vuole dare a te le isle, con la Cintra e il resto dell'empera C'è un'altra parte a tutto questo, è così? L'empera dovrà aiutare a combattere il hunt E abbiamo proprio trovato Frangilla Vigo E' una fava bella, grossa, la mia Ok Però E' una fava bella Sarà fatto, mia signora E beh sai, non siamo di quel mondo, sai Noi conosciamo altre ballate, quelle su Geralt di Rivia, il Witcher Ma guarda che scherzavamo Mentre Ehm 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 Grazie La fortuna non esiste, non ti ho insegnato niente Vabbè ragazzi dai, siamo pronti Abbiamo più di un obiettivo, il primo che credo è quello che perseguiremo E andare a chiedere a Crouch dove è Ermellino in modo tale che ci sveli dove è situata la pietra del sole Con cui potremo richiamare la caccia selvaggia Ma prima ragazzi avremo bisogno di un'altra maga, ovvero Frigilla Vigo Che però è intrappolata, è prigioniera dell'imperatore Tra l'altro due piccioni e una fava gli chiedere manca aiuto Dove erano i loro ricchi tubs, si vedi a nostri spettatori, si vedi a nostri spettatori e si vedi a nostri spettatori Soll'em all, dove è Ermion? Went a vedere Lugas Un'ancrape sull'arri è rimane a tornare il suo cuore Ma ora che vediamo i dei sottosini, ci ha impazzito ancora più difficile Ok ragazzi dai Andiamo da Ermellino Che a quanto pare è invischiato A parlare con Lukos il pazzo Ok ragazzi dai Riprendiamo da qui Stiamo andando da Ermellino E' interessante capire come Adesso che ci sono i Nifgardiani Alle porte delle isole Dell'arcipelago di Skjoga Ci sia veramente tanta tensione Perché Vabbè ma quello dico Eh esattamente quello che vi volevo dire Vediamo le mani ragazzi Facciamo fuori questo vile traditore Lukos è il pazzo ma abbiamo capito anche il perché Era quello che vi dicevo nelle scorse puntate Quando insomma Le isole sono in guerra Oh l'ho spiaccicato Quando le isole sono in guerra Si riuniscono tutti sotto un croak In questo caso contro un croak Ma perché Dovete capire ragazzi che l'imperatore Il re delle isole E' la ragazza E' la figlia di croak A seguito dell'elezione Abbiamo una missione secondaria inutile Però vedete come Non tutti Sono d'accordo Che A riunirsi sotto A prendere ordini Da un solo re E' il motivo per cui ragazzi I clan Sono sempre un magello E lo avevamo capito già Quando abbiamo fatto la conoscenza La prima volta che siamo arrivati Qui sull'isola C'erano delle forze di tensioni E adesso ce ne sono Ancora di più Comunque dai Parliamo con Almellino Fuori dal territorio Mi sta affavare mille miglia Dai Beh Garib Vedo che nessuna ruota Può succedere in Skellige Sembra tua partecipazione Mianco e inaccurato Hermione Sembra che per me Ho perduto molti Il sangue di Croak Il sangue di Croak Sì sull'isola E' quello che tu hai fatto Sono scoperto Che hai incontrato Una piccola guerra civile Per anni Ci sono stati La sangue di un sangue In quest'isola Per il sangue di Skellige E forse questo Chiude un po' il cerchio Di quello che abbiamo detto So Clan Drummond Will attack sooner Than we expected It seems Thought Croak Sent you to negotiate An agreement With Lugas Ha An agreement Only Croak Believes Such a thing Possible At this stage Mean I didn't actually Ruin things for you Not this time Lugas' death Stands to change A great deal Ma a noi non ci importa Comunque ragazzi Ma a noi non ci importa Per us first Now the sunstone Monsters may rest easy You've become a treasure hunter I've never found the N'Shea elves interesting But there's a scald Avent He could help you Once told me of some inaccessible caverns Or ruins or some such Where will I find him? Today? In Aranbjorn Doubtless You might also ask The pearl divers Erling and Mathias Fishlong Of late They hunt near the tip of the bay Eastern end Thanks for your help One thing, Garrett These caves Are ruins Mathias and Erling's ancestors Would have looted them Bare centuries ago Were they not protected By some magic barrier Take a sorceress with you You must have brought At least one along All gaggle this time Oh Gods protect us Ermellino odia le maghe Vabbè noi ci faremo accompagnare da una Ce ne abbiamo tipo 709.000 Allora ragazzi possiamo parlare Con un bardo O addirittura con un pescatore In ogni caso Dobbiamo farci tutta la strada al ritorno Quindi dai Ci vediamo lì Allora ragazzi Ho deciso di andare a parlare con il bardo La mia decisione è stata presa Dal fatto che questo era più vicino rispetto a quell'altro Semplice Semplicissimo Peccato ragazzi perché la strada da fare è tantissima È sconfinata Io ci sono stato lì Guardando per la fletta di Nilfgaard Fletta? Ragazzi che aspetta la balena bianca Mi ricorda qualcosa Però Oh 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 raga Raga Che coglione Questa è tutta la vita che aspettava sta balena È ricerca Eh ricerca sì Beh Ah diciamogli del romanzo Lui è un bardo Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Il treno è il passato amico mio Vabbè ragazzi abbiamo la posizione Della pietra del sole Adesso non ci resta che andare A parte parlare con Yennefer Ma dà l'imperatore a chiedergli di Fregilla amico Mi dispiace tantissimo per quel tizio ragazzi Però l'abbiamo fregato Quindi direzione In culo perché starà tipo lontanissimo Ma che bello ragazzi la neve Di notte Al lume di candela Comunque stiamo andando dall'imperatore Però l'ultima volta Che l'abbiamo visto ci aveva chiesto di riportargli Sirilla Ovviamente la nostra Siri La cosa figa ragazzi è che noi gli abbiamo detto Sì sì e poi quando finalmente Siamo riusciti a riprenderla A salvarla Non gliel'abbiamo riportata Adesso io non so se l'imperatore Sarà Vabbè non è mai stato amichevole Però magari visto che gli abbiamo fatto questo screw job Non so se Se sarà benevole Ci lascerà Fregilla Eh sì Fregilla sì Più che altro ragazzi Gli dobbiamo anche chiedere Di combattere al nostro fianco La caccia selvaggia Eh Non so Se sarà d'accordo Vediamo Comunque stiamo facendo tutte le cose fatte bene Oh Salta Geralt Geralt con l'armatura Al massimo del gatto È proprio Boh Qualcosa di Lussurioso Bella raga Mi ricorda un black flag così Non so perché Ah meno male dai A meno che non è fortemente ironico Vicino Close Close White Wolf Is what you are to decapitation You're insolent Because you believe I cannot afford to hurt you And you're right Yet that will change one day When you are no longer indispensable But disposable But enough of that Let's not get ahead of ourselves What do you want? Fringilla Vigo Been told you promised Yennefer you'd free her I can see I know you're a busy man So here's a letter Ought to refresh your memory about the Lodge Even Yennefer's humblest requests seem like threats I've always liked that about her Very well, so be it Truly prepared to forgive them? Amnesty in exchange for help? I'm prepared to abide by the agreement I made with Yennefer Didn't answer my question Nor must I Time I was on my way At last the point we agreed on Gods Friendly Fringilla Vigo You may remove her Dimerytion Shackles Beh È stato più semplice del previsto Vabbè Ha capito pure lui ragazzi Che è un minestra O te butti dalla finestra Noi introduzioni non necessarie From what I've heard Farewell Fringilla Been a while The other sorceresses They're on Ginnvale Near Ard Skellig We could take a boat I'm sick to death of boats Teletrasporto Vai And I despise teleports And have it your way Let's go Ma magari io Gerard col teletrasporto Sai quante ore Mi risparmierei Going somewhere Ciri says there's a site in Skelligo We must examine Avalach clearly hiding something from us Earlier when we were in the Isles together Avalach mentioned a laboratory At one point he wished to teleport there To retrieve something And he refused to take me with him It was all very strange Sufficely suspicious don't you think So what Want to just sneak in and root around Exactly Coming with Fine Where is it On a small isle between Undvik and Spikerog Not exactly on our way Just found out the sunstone's on Ard Skellig Cavern along the coast That we can only access from the sea Gonna need some real magic to get in too Go find this laboratory I will explore Ard Skellig You can join me later Philippa Your eyesight Only just recovered and magically simulated Didn't you say you'd need some time to get accustomed? Did I? I forgot how irritating she could be Come siri We're waiting there Io ancora non ho capito Se ci possiamo fidare di Avalach Oppure no Se sta facendo il doppio gioco Non bisognerebbe mai fidarsi degli elfi In maniera totale Però Lui ha aiutato siri Yes, Geralt Forse vuole qualcosa in più Proviamo a Non so A estrapolare qualche cosa da lui You imprisoned siri the first time you met her Now you protect her While fighting against your own kind Quite an about face First of all I did not imprison her She found me It was her Yeah, sure Get to the second of all Because she is a danger You look at her and see a human A ward A daughter even I look and see the elder blood A power that can destroy the world A power that must be kept Admittedly our motives differ Yet in spite of that We share a goal So long Boh Ma ha convinto come Non lo so Ciao Triss Well, well Vabbè ragazzi Andiamo da Yennefer E da Siri Che ci aspettano Peccato per scoprire qualche mistero Su Avalach Proprio cosi Non sembra molto come un lab Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Dobbiamo guardare È un po' low, non c'è? Non c'è Non c'è Non c'è Portrait of Siri I think Ah Si spippettava con le tue foto È vero E se fosse innamorato Usiamo i sensi dei Witcher Per esaminare questo laboratorio Di sicuro ragazzi Si Avalach Avrà un tornaconto Comunque C'è Ha il suo sporco interesse Nell'utilizzare Siri In una certa maniera Bisogna solo scoprire come Aia Ucci ucci Sento odora Sento odora Ok 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 Geniological chart of the Enhanicare The Elder Blood From Laura Doran To me You never showed me The full version I had no idea Veedmont of Eden Was an ancestor Was he the one who punished his daughters With a hot iron Or the one Who had his own father's eyes Gouged out Him of the daughters My Even I'd never seen the full version Seems Avalach has analyzed All the paths Of Laura's gene Even those We thought extinct I had no idea Forget this Not like we're going to learn anything new How can you know I don't wish to read this either Ma infatti Che te ne frega Ragazzi Mi sembra Tutta una grossa perdita di tempo E noi non vogliamo perdere tempo Visto che c'è Il grande gelo Che Che sta per arrivare Ok Bo How did you get in here? Who are you? Not your concern Get out of here Now You I remember you From Tiernalia Remarkable I thought all elves Looked alike To those of your race If it's Avalach you seek He's not here I know And yet you come here What for? To spy on him He tries his damnedness To save you Every time you do something stupid Is that not in line? What can you possibly know About that? You'd be surprised He's told me a great deal About you Like what? He said you shed Lara's features I don't see whatever it is he sees It seems a bit like trying to drink water From a mud puddle But I imagine that belief somehow helps him with his task What task? Do you think he trails you everywhere for pleasure? Even I grow ill at the sight of you? It's incredible how those like you still believe you're superior to humans In any way She's no human She's a degenerate half breed To have no choice To have no choice but to use something like that? It's humiliating Another word and I'll... What? You'll change nothing She must do what she must Personally involved in the matter That's clear What of it? If they despise me so They should leave me be Giovani Beh Che infame però quell'elfa E allora fallo Tanto che ce frega Davelac Che ha fatto? Al mio segnale Scatenate l'inferno Beh Quell'elfa se lo merita E Avelac se lo merita Anche se non abbiamo trovato grosse prove Ehi padri I genitori che insegnano l'educazione ai figli Eh vabbè Ragazzi ci siamo divertiti Anzi Forse abbiamo tirato su un po' il morale a Siri Abbiamo distrutto il suo laboratorio Vabbè ragazzi Come diceva un vecchio saggio Nel dubbio Mena E noi ragazzi Meniamo Non sappiamo il motivo Lo sa lui Non gli meniamo comunque In ogni caso Sì Eh sì Se prendi le sfere del drago Può darsi che lo saluti Sì Scal is dead The wild hunt Everyone No one survived Scal died later You sure was here You'd met him I was there I saw his body Will you visit his grave with me I'd like to To say goodbye I'll go with you Thank you Could you open a portal To hindersfjall I can Let's do this Come back soon All right See you What are you doing What are you doing What you should have done long ago We're burying Scal Burying Craven You defy the right of the elders Begone Leave this place You def- Lower your voice Before we need another grave How can you defend him Craven's place Is in the ditch Scal saved your bloody lives The wild hunt Was after me Had Scal not led me away then Why they would have reduced Loverton to ash What would the specters be wanting Of some lass who I am not some lass And anyone who so much as touches this grave Will learn that the hard way None will disturb it Desecrating graves Well It's the only thing elders punish harder than flee in the battlefield And what you said Can't know the truth of it The gods will judge Scal We were right to come I was deeply troubled Well they shouldn't spit on his name anymore Vabbè ragazzi dai Io direi che abbiamo ampiamente soddisfatto le richieste di Siri Che dire Scopriremo di più nella prossima puntata Dobbiamo andare a prendere la pietra del sole Che ci farà evocare la caccia selvaggia Io vi do appuntamento ai prossimi video Un saluto a tutti da Mike Showsha Alla prossima Ciao ragazzi Ciao Ciao